ciao a tutti buonasera a tutti aspettiamo qualche altro secondo che si connettano anche gli altri ragazzi che stavano aspettando nella lobby intanto molto piacere io sono nicolò bardi uno dei fondatori tutored e con me ci sta a simone che fa parte del nostro team e già potete vedere i due speaker daniele e federico ciao a tutti ciao ragazzi ciao a tutti dal momento che alcuni ragazzi sono registrati a tutored appositamente per vedere questo quindi non conoscono la nostra realtà mi faceva piacere raccontarvi un attimino chi siamo e diciamo come tutored può effettivamente esservi utile alla vostra carriera noi siamo una start up siamo nati qualche anno fa e siamo definiti il punto di incontro digitale tra studenti e laureati ed aziende abbiamo sviluppato questa piattaforma dove da un lato facciamo un vero e proprio orientamento al lavoro quindi all'interno della nostra piattaforma studente e laureati possono leggere gli articoli pubblicati dalle aziende che sono presenti sulla nostra piattaforma è possibile leggere approfondimenti e consigli per come redigere meglio il proprio cv come presentarsi ai colloqui di lavoro quali sono gli sbocchi lavorativi in base al tipo di ambizione di facoltà che uno effettivamente ha fatto organizziamo numerosi webinar questo diciamo è uno di quelli quindi sia con giovani talenti sia con realtà aziendali che raccontano un po il loro luogo di lavoro e organizziamo anche dei coding challenge e delle business game quindi un modo diciamo per dare delle challenge alla nostra la nostra community allo stesso modo sulla nostra piattaforma ci sono numerosi annunci di stage e di lavoro a quale gli gli studenti e laureati possono candidarsi vengono pubblicati da oltre 250 aziende che sono presenti sulla nostra piattaforma di un po tutte le industrie quindi dal settore bancario come bmp generali ma anche abbiamo l'idol axa accentor pwc ed è possibile candidarsi creando il proprio cv questo webinar qui fa parte di un ciclo di webinar che stiamo organizzando ne faremo uno tra un paio di giorni con il cio di bmv bank massimiliano gasparotto settimana prossima ne faremo uno invece in ambito risorse umane e il 22 invece sarà il primo webinar dedicato proprio a come affrontare al meglio un colloquio di lavoro insieme ad anna casazza prima di lasciare la parola agli speaker un paio di parole su questa piattaforma i pulsanti importanti sono sono solo tre quindi sarà facile sulla sinistra trovate una nuoletta conversation nel quale una chat nel quale potete scrivere tutto quello che che preferite quello sotto è un punto interrogativo question and answer nel quale potete porre tutte le domande che volete una risposta nella seconda parte del webinar gli speaker risponderanno a tutte le vostre tutte le vostre domande in massa destra invece avete diciamo un pulsante nero nel quale potete decidere la visualizzazione quindi se vedere tutti gli speaker vedere solo chi parla o come preferite per me è davvero un grande piacere presentarvi daniele banking operation specialist di flowy e federico finance grad di lava di lavazza io lascio direttamente la parola a loro così che si raccontano si presentano e noi ci vediamo più tardi alle domande ragazzi benvenuti e grazie mille diciamo di questo di questa opportunità grazie a voi ragazzi innanzitutto benvenuti benvenuti a tutti io sono sono federico lugher e come ha detto nicolò in questo momento lavoro in lavazza chissà cosa ho studiato io sono originario di vino dove ho frequentato la facoltà di economia per per la laurea triennale e dopo mi sono spostato a milano all'università bocconi per la specialistica in management durante questi insomma il mio percorso universitario ho avuto la possibilità di studiare in finlandia durante la triennale e alla copenhagen business school in danimarca durante la la magistrale per quanto riguarda invece quelle che sono le mie esperienze lavorative ho avuto una breve parentesi di sei mesi alla the craft times company a milano dove mi sono occupato di sales sul sul canale retail e successivamente ho lavorato un anno e mezzo circa in accenture come nella practice di management consulting sul su progetti di industrializzazione digitale principalmente sui settori automotive e fashion and luxury da ormai dieci mesi sempre un sacco di tempo fa ma sono dieci mesi sono entrato in lavazza per prendere parte a quello che è il primo graduate program dell'azienda questo percorso che della durata di tre anni mi porterà a vedere le diverse funzioni aziendali e ad oggi appunto lavoro nel dipartimento finance fpna dove mi occupo insomma magari dopo abbiamo modo anche di entrare un po più nel quello che è il mio quotidiano ma di reportistica e pianificazione principalmente questo programma mi porterà all'estero al prossimo anno covi covi permettendo oltre oltre alle al lavoro insomma sono appassionato di sport ho giocato a pallacanestro mi diverto ad andare in bicicletta in montagna nel tempo libero quindi passerei la parola daniele grazie mille federico grazie anche a tutti per ospitarci per questo webinar assolutamente io sono originario della sicilia e ho 23 anni e il mio percorso formativo comincia a piacenza all'università cattolica del sacro cuore lì c'è la possibilità di partecipare ad un dual degree program che è sostanzialmente un programma di quattro anni invece dei tre anni classici che abbiamo quali triennale che ti permette di frequentare due anni in italia e due anni all'estero quindi ho fatto i primi due anni qua in italia il classico corso di economia aziendale con un focus in international business e poi mi sono trasferito a boston massachusetts dove ho studiato presso la north eastern university lì ho fatto una concentration in accounting sebbene continuassi ad avere come major international business il mio percorso di studi quindi si interrompe con l'italia dopo i primi due anni alla fine dei quali comunque ho fatto un internship in un'azienda siciliana di food and beverage mentre negli stati uniti ho avuto modo di iniziare la mia carriera nel mondo del finance e del financial services perché ho fatto un internship di sei mesi a state street corporation che è una custodian bank e mi sono laureato l'anno scorso maggio e alla fine del mio percorso di studi ho preso anche un master di primo livello sempre rilanciato dall'università cattolica del sacro cuore e ottobre infatti ho iniziato a lavorare in flowy ho iniziato a lavorare in flowy come banking operation specialist e flowy è una nuova challenger bank qua in italia focalizzata molto sull'attenzione agli usi alle abitudini delle persone nel loro quotidiano in particolare con rispetto della sostenibilità mi è subito piaciuto l'azienda per cui quando mi hanno offerto il lavoro non ho dubitato ad accettarlo perché è stata un'opportunità incredibile per vedere nascere una nuova banca dal nulla e per potermi occupare tutto quell'aspetto banking della società quindi questo qua il mio background diciamo un po in generale ok dunque quindi daniele ora adesso tocca a noi a raccontare un po quelle che sono magari iniziando dalle differenze tra il mondo corporate all'interno del quale io mi muovo e magari il mondo start up come come la realtà di flowy da dove iniziare forse faccio magari un'introduzione poi tu ovviamente integrati come come preferisci di sicuro le differenze sono tante nel senso che in una realtà aziendale più ampia i compiti sono sono molto specifici per cui le figure tendono ad essere molto verticali all'interno di quelle che sono le competenze si diventa molto esperti su quelle che sono le tasche che si hanno in carico le responsabilità che si hanno in carico così come i processi sono ben definiti e rigidi complessi e insomma difficilmente modificabili non so se tu su questo hai insomma l'opposto sì decisamente o meglio quando ho lavorato a state street mi trovo perfettamente con quello che hai detto tu infatti classica organizzazione comunque con tanti anni le spalle in cui hanno avuto modo di consolidare il business e quindi gli aspetti anche organizzativi dei processi alla gerarchia anche aziendale in come rapportarsi nel team eccetera eccetera una certa ovviamente non c'è nulla di tutto ciò perché di fatto parti da zero e partendo da zero vuol dire che come se avessi un libro non scritto davanti devi scriverlo tu quindi l'approccio è totalmente diverso perché ovviamente devi applicarti in maniera diciamo la prospettiva più a 360 gradi secondo me rispetto a quella di un lavoro in corporate perché ovviamente nel momento in cui vai a disegnare un processo devi tenere conto di tanti altri fattori che possono non riguardare strettamente il processo su cui ti stai occupando quindi lavorare in una startup è sicuramente secondo me più 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 challenging perché ti veramente ti necessita una grande apertura mentale tanta voglia di fare perché comunque devi metterti essendo anche pochi inizialmente devi metterti a fare tanta roba e di avere anche una visione un obiettivo da raggiungere alla fine perché ripeto partendo da zero e quindi con un foglio bianco deve avere già in mente un pochino lo script che vuoi seguire no e quindi in base a quella visione che è sempre nelle tue idee di poi lavorare per metterla in pratica quindi quella forse la challenge più più grande che una in una startup si può si può incontrare e sotto tutti gli aspetti marketing aspetti legali aspetti operativi bancari quant'altro quindi quello sicuramente sì però dimmi anche tu cosa pensi perché io ricordo nella 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 stay street diciamo i processi già ben determinati la possibilità di ottimizzare certi processi magari automatizzando certe funzioni quindi applicandoti più nello specifico a certe funzioni era comunque molto affascinante molto intrigante di sicuro di sicuro il primo impatto che ne sia quando si entra in una realtà chiamiamola così strutturata e che c'è un po di disorientamento magari perché bisogna riuscire ad entrare all'interno di questi famosi processi e anche nei sistemi che spesso rappresentano un aspetto complicato nel entrare in sintonia nel banalmente imparare a poter fare le cose dalle analisi alle attività magari quotidiane di sicuro è anche interessante perché magari un occhio fresco un occhio che arriva per così dire da fuori permette di poter andare a discutere lo status delle cose permette di andare a dire ma perché facciamo così perché facciamo cosa forse sarebbe meglio riuscire a insomma a implementare il processo in questo modo seguirlo in quest'altro modo e secondo me questa è un po la componente interessante avere la possibilità di lavorare fianco a fianco con figure professionali sicuramente molto sviluppate e che hanno una conoscenza molto approfondita di tutti quelli che sono gli argomenti che si vanno a a trattare nel sul sul lavoro ma allo stesso tempo avendo sempre la possibilità di di portare una diciamola chiamiamola una ventata di aria fresca no di poter cambiare di cambiare le cose chiaro che c'è sempre un aspetto che in azienda c'è tanta importanza a quella che la storicità aziendale delle persone ovviamente perché la conoscenza più approfondita della realtà permette spesso di poter di poter avere un impatto ampio su quelle che sono le scelte sicuramente non è quello che si può dire in una start up perché non c'è sì no assolutamente no ma mi ritrovo totalmente in quello che hai detto perché sempre faccio il paragone la mia esperienza in corporate e ricordo bene poi penso che comunque alla fine sarà un po dappertutto lo stesso modo io per approfondire magari tematiche di altre aree in cui ti è interessato siccome comunque sei un'azienda con molti anni le spalle ben consolidata nel suo mercato ha sviluppato anche tante tante diverse magari unità aziendali o comunque dipartimenti che ti permettono anche di approfondire la materia di tuo interesse no quindi per esempio mi ricordo io lavoravo nel team di asset teleability management quindi più l'ambito tesoreria però sempre molto affascinato dal credito e mi ricordo spesso mi incontravo con colleghi che lavoravano nel credit risk piuttosto che nel nell'analisi del credito e quindi mi spiegavano come funzionavano i loro i loro processi loro i loro lavori e così via quindi molto molto interessante perché anche quello ti permette di acquisire tante conoscenze e di di crearti un background bello bello solido in startup ovviamente quello non c'è viene lasciato un po un po più a te stesso no quindi devi essere abbastanza confidente delle tue conoscenze devi essere in grado di applicarle però una cosa che mi ha sorpresa ti dirò soprattutto pensando ai processi no quando pensi comunque a creare dei nuovi processi dal nulla magari parti con l'idea mo voglio ottimizzare quello che ho visto in passato e quindi creare una cosa perfetta poi ti accorgi nel tempo comunque a parte di la difficoltà nel fare una cosa del genere però una volta che il processo è terminato e già consolidato ti accorgi ma forse potevo ottimizzare anche quest'altro aspetto comunque cerchi sempre di migliorare quello che hai fatto e quello che vai a fare per cui c'è un'ottica di apprendimento continua anche in una startup e non necessariamente ti puoi diciamo cullare su quello che hai preso prima ma devi anche iniziare a apprendere cose nuove proprio magari cose mai viste cose che nessun altro può dirti perché vai a lavorare veramente con te stesso e con dei colleghi che anche loro si interfacciano su cose nuove per cui ci sono un po di differenze ma anche di similitudine una cosa che mi ricordo a stay street come hai detto tu poi data anche dal fatto della storicità comunque aziendale sicuramente la cultura cioè la cultura di un'azienda per me è fondamentale anche nella scelta di un lavoro no e ricordo comunque quando mi applicai a stay street sapevo bene quello a cui andavo incontro una classica banca del non di wall street perché un dead quarter sta a boston però su quella su quella linea lì e quindi abbastanza formale abbastanza anche nei rapporti umani molto molto professionali molto formali e tutto in una start up invece la cultura devi sempre partire da una visione magari comune ai tuoi colleghi per poi andare ad applicare a creare nel tempo una cultura aziendale vera e propria che secondo me diciamo è di avere un appiglio mentale molto forte perché non è qualcosa che puoi vedere né toccare con mano inizialmente quindi è qualcosa che vuoi sviluppare che devi sentire molto dentro soprattutto i valori che condividi insieme al tuo team perché altrimenti dischi di cadere anche magari sai in demotivazione essere poco produttivo anche perché in fondo secondo me la cultura serve anche a quello no a invogliarti a metterci tanto in quello che fai e a sentirti parte di una realtà più grande di te no in una start up invece sono tante piccole realtà inizialmente un individuo che poi in una collettività che si viene a creare si va a sviluppare quella che è la cultura aziendale quindi una cosa molto più lenta graduale e certe volte anche sai in definizione proprio in definizione proprio in fase di definizione ragazzi scusate una scusa una cosa federico non volevo assolutamente interrottervi è molto interessante però ci sono un paio di denti che mi hanno scritto federico che ti vedono al contrario a testa in giù esatto io ti vedo benissimo pure qui in un fisico da me ti vedono quasi tutti bene tranne una persona quindi se magari vuoi provare a muovere un pochino l'ipad e vediamo se risolviamo questo problema se no mi siedo sul soffitto ok e guarda ancora ma per me forse no ti vediamo da un lato adesso e così di nuovo a testa in giù così io mi vedo dritto e l'ipad è dritto eh no ma io pure ti vedo dritto capito quindi vabbè facciamo così guarda continuiamo continuiamo a usare il nostro team tecnico e vediamo se ci sta qualche problema però tanto vi devo ti devo sentire diciamo quella è la cosa importante quindi la ragazza vi lascio vi lascio continuare e ritorno da voi tra poco grazie no io credo che un altro spunto interessante che abbiamo diviso con con Daniele quando ci siamo sentiti quindi la settimana scorsa è un po' anche la differenza che si trova fra la realtà aziendale più strutturata nella job description rispetto a quanto si va a fare in una startup ed è una cosa cui io oggettivamente non avevo mai pensato ma che interessante del come fondamentalmente per tutte le ragioni di cui sopra in azienda entri spesso con un ruolo ben definito e sai a priori abbastanza nel dettaglio ciò che tu andrai a fare il ruolo che andrai a ricoprire le responsabilità che avrai cosa che invece in una startup non non succede assolutamente assolutamente no esatto esatto è esattamente così in una startup la descrizione del lavoro è molto generica e si tende a dare un quadro generale di quello che si andrà a fare però poi effettivamente le cose che vai a vedere si cioè si identificano nel tempo per esempio ricordo quando sono entrato mi avevo un po' spacciato il lavoro come analista funzionale sebbene sapessi già che comunque avrei fatto molte più cose di un'analista funzionale anche più cross functional sicuramente è più challenging anche per quello perché se per esempio vuoi sviluppare qualcosa di specifico io per esempio uscito da finance oppure da finance in particolare è una cosa che molti vogliono fare financial analyst una corporation oppure entrare in investment banking a fare ricerca e quant'altro quello ti permette di focalizzarti al 100% nel tuo lavoro e quindi sviluppare anche tante skills che sono correlate a quel lavoro lì invece in una startup secondo me si tende di più a come dicevo prima anche a vedere le cose più a 360 gradi da un prodotto aziendale e anche processuale e quindi magari non ti focalizzi al 100% su un tipo di ruolo ma vai a prendere spunti da tanti altri ruoli per esempio io in quest'anno mi sono interfacciato molto con tante tematiche IT o comunque di sviluppo di software che non avevo mai visto prima che non avevo neanche in mente di vederle no? perché non mi aspettavo una cosa del genere invece devi imparare ad essere flessibile proprio mentalmente e qua infatti mi trovo assolutamente allineato perché anche in una realtà aziendale è fondamentale riuscire a bilanciare di nuovo a seconda di quelli che poi sono gli interessi di ciascuno perché secondo me in questi discorsi qua non ci sono dei valori assoluti di quello che stiamo dicendo quanto una soggettività elevatissima però penso che sia importante riuscire a bilanciare la verticalità delle conoscenze su una vista più a 360 gradi io lo chiamo rischio perché io lo vivo personalmente come quello che potrebbe essere un rischio di diventare estremamente verticalizzato e quindi perdere magari di vista l'immagine di alto livello però credo allo stesso tempo che anche in un'azienda più strutturata chiamiamola corporate ci sia la possibilità di andare ad approfondire tutti gli aspetti dell'area finance a partire dalla parte come sto per esempio vedendo io di corporate reporting e pianificazione così come il controlling commerciale la parte statutory e via di seguito sì è assolutamente una cosa da tenere a mente secondo me questa sì no lo sviluppo verticale è sicuramente importante oh ti ho perso Federico non so se è voluta oppure non so se comunque non mi interrompo non perdo tempo no dicevo secondo me lo sviluppo verticale delle competenze è molto importante relativamente ad un ruolo ecco in una startup la cosa bella che mi riguarda è che essendo arrivato in flowy quando ancora si doveva costituire come anche società e quant'altro ho avuto la possibilità di occuparmi inizialmente dovuta una parte molto più di sviluppo di business e quando adesso abbiamo consolidato determinati processi determinati prodotti e quant'altro e quindi siamo andati anche sul mercato adesso stiamo cercando di focalizzarci ognuno di noi più sulle nostre aree tematiche questo ci permette di sviluppare quelle competenze verticali che citavi tu perché inizialmente come dicevo è più una prospettiva a 360 gradi che poi vai delineando nelle singole verticalità e poi invece adesso tendiamo a rientrare ognuno nei nostri ruoli più consoni e sviluppare delle competenze verticali anche ovviamente per andare incontro a tutte le esigenze di business che abbiamo assolutamente guarda, intanto io prendo il posto di Federico anche se purtroppo in ambito finance non è assolutamente la mia expertise in attesa che eccolo Federico allora Federico facciamo una cosa diciamo io ti vedo dritto adesso senti i miei colleghi se ti vedono al contrario in caso la cosa migliore è spegnere la camera tanto comunque diciamo l'importante è che ti sentono bene sì 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 mi spiace ho visto che c'è un flag rientrando del flip locally non so se eventualmente quello potrebbe essere adesso l'ho flaggato vediamo, no purtroppo è ancora provo a fare questa manovra al contrario guarda purtroppo secondo me siete che si è incastrato qualcosa però sì se vuoi provare a rientrare faccio ancora questo tentativo esatto fai quest'ultimo tentativo tanto io rimango qui e faccio una domanda a Daniele che mi sono segnato vediamo se funziona se no poi spendiamo una domanda che diciamo già stanno arrivando un po' di domande anzi io invito i ragazzi presenti che sulla parte del punto interrogativo possono fare le domande una primissima domanda che è arrivata ed è un classico quindi adesso la faccio a te poi dopo la faremo pure a Federico è un consiglio che tu ti senti dare per trovare uno stage in ambito finance ok? ovviamente diciamo oltre a Tutored che come sanno tutti diciamo abbiamo un sacco di opportunità in ambito finance però oltre alla nostra piattaforma cosa altro tu consiglieresti ma levando la piattaforma in sé proprio a livello diciamo strategico perché trovare lavoro è un lavoro quindi il tema è tu che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che sia un laureando o un laureato che ha la ricerca di un primissimo stage? Sì beh inizialmente dico cercate di chiedervi le idee su che tipo di finance volete andare a fare perché quando si parla di finance purtroppo parliamo di un mondo molto ampio che spesso ha delle sfaccettature totalmente diverse l'una dall'altra ok? quindi capite un po' che ambito per esempio quando ero io a Boston c'era un po' il sogno dell'investment banking oppure di private equity wealth management queste cose qui che sono diciamo il fiore all'occhiello del mondo del finance sono considerate così da molti e poi c'è invece tutta la parte più di finanza di corporate finance che può andare a fare sia in istituti finanziari quindi banche banche di investimento e quant'altro oppure in aziende private e quindi ti interfacci magari con tematiche più legate anche al mondo contabile come può essere la gestione della tesoreria piuttosto che il monitoraggio dei ricavi e quant'altro il mio consiglio quindi prima di tutto chieditemi un attimo cercate di capire voi stessi cosa volete fare e soprattutto su che cosa siete appassionati quando si parla di finance cioè finance applicata ad un prodotto finance applicata al mondo finanziario e quindi dei mercati finanziari e quant'altro e una volta che avete capito questo sicuramente mostratevi molto motivati in fondo riuscite a prendere qualche colloquio che la motivazione è la cosa più importante perché presumo se siete laureandi che già abbiate sviluppato certe competenze le competenze a cui mi riferisco sono sicuramente delle competenze generali di business ma non sono sempre richieste per esempio in investment banking spesso anche se non hai un background economico finanziario non c'entra accolgono c'entra tutti i background proprio perché gli interessa anche avere una diversità di pensiero interna però competenze in ambito informatico quindi per esempio quando parliamo di Excel questo è un must ormai per qualsiasi lavoro in finance ma deve essere un Excel solido solido e comprovato nel senso dovete essere dimostrare le competenze che avete acquisito nel corso del vostro percorso universitario e poi e poi basta essenzialmente questo Excel ovviamente tutto ciò che viene sopra Excel che può essere ad esempio conoscenza di linguaggi di programmazione oppure di data visualization data analytics anche sono tutte competenze che sono molto molto ben viste a prescindere dal background che avete da un punto di vista formativo quindi sicuramente focalizzarsi se siete all'inizio di un percorso accademico tenete a mente la cosa principale ovviamente sì una brillante carriera accademica quello che dicono tutti ma soprattutto la consapevolezza che dovete avere delle hard skill e delle soft skill molto ben sviluppate già alla fine del vostro percorso accademico non aspettare il mondo del lavoro per svilupparle perché sarà troppo tardi a quel punto questo è quello che mi sento di dire assolutamente molto interessante prima di fare la stessa domanda a Federico ovviamente io però ti chiederei visto che alcuni ragazzi mi stanno continuando a dire che purtroppo sei a testa in giù disattivo esatto disattiva la camera semplicemente perché magari esatto tanto parla vediamo se ti sentiamo bene mi sentite bene perfettamente non so se hai sentito la domanda comunque la domanda era una classica domanda che è arrivata prima da Francesca che diceva dei consigli un consiglio che ti senti di dare per trovare uno stage in ambito finance allora io innanzitutto confermo tutto quello che ha detto Daniele in ultima battuta perché qualcuno me lo avesse detto 6-7 anni fa sarei stato molto felice però io credo che la chiave per riuscire a trovare uno stage in finance sia assolutamente quello di aver voglia di cercare senza senza sosta a partire da da quelli che sono i siti aziendali a quelle che sono le piattaforme come può essere Tutored dove avviene il job posting quello è sicuramente il modo più importante un aspetto che credo sia anche fondamentale sia il curare quello che è il CV da un punto di vista di contenuti ma anche da un punto di vista banalmente grafico perché poi non è banale invece un CV che magari cattura l'occhio è senz'altro modo per entrare detto questo poi io credo che sia una competenza davvero importante a livello finance riuscire a sviluppare quindi anche per trovare uno stage una buona capacità di ragionamento numerico logico numerico perché spesso viene richiesto e spesso è uno scoglio che contro il quale ci si scontra per riuscire a trovare a trovare uno stage quindi senz'altro aggiungo oltre a quello che ha detto Daniele che sottoscrivo al 200% anche questi piccoli consigli assolutamente guarda molto interessante vai Federico no esatto queste qua secondo me sono un po' un po' anche proprio le hard skills che sono necessarie un po' a fare la nostra vita diciamola dove bisogna avere comunque delle conoscenze di base ma poi molte competenze vengono poi sviluppate dopo d'accordissimo io adesso io purtroppo prima vi ho interrotto per motivi tecnici però non so se vi ho interrotto volate continuare la chiacchiera o qui stanno continuando arrivare un sacco di domande quindi ditemi voi se avete altri argomenti che volete affrontare voi o vogliamo fare le domande ditemi voi come preferite procedere secondo me noi rispetto a quanto insomma avevamo un po' disegnato come contenuti siamo assolutamente in linea forse l'unico capitolo che era rimasto un attimo fuori poteva essere quello del passaggio dal mondo universitario al mondo del lavoro che abbiamo in parte toccato adesso però quello potrebbe essere io direi allora vi invito a parlare di questo così intanto i ragazzi continuano a fare domande una volta che avete terminato questo allora noi diciamo rientro gli faccio queste domande che stanno arrivando che stanno arrivando va bene? perfetto perfetto Dani vuoi andare tu? vado io? sì come come faccio? guarda vado io così non perdiamo neanche tempo allora io il mio passaggio è stato duplice nel senso come dicevo prima il mio percorso accademico si è diviso in due e avendo fatto un'intera cipi sia qua in Italia che all'est io già quando parliamo di transition penso già al passaggio prima tutto dall'aula al corporate già durante un internship che poi ovviamente è quella che abbiamo alla fine e che dire la cosa mi ricordo nella mia prima internship ero super emozionato nel poter applicare tutti i concetti che avevo appreso in aula soprattutto per quanto riguarda analisi di bilancio piuttosto che analisi di mercato e quindi analizzare tutti i dati che l'azienda aveva a disposizione per arricchire le mie conoscenze quanto più possibile ero molto comunque entusiasta nell'opportunità di applicare i concetti che avevo studiato nella pratica e quindi veramente mi basavo sul libro magari o sugli appunti che avevo preso in università e cercavo di applicarli poi concretamente nell'analisi che andavo a fare in azienda non è stato così per la seconda internship che ho fatto a Boston perché lì andavo a fare un lavoro che non avevo idea di cosa fosse nel senso sapevo alcune cose sul mondo bancario in particolare quando si parla di tesoreria e quindi dell'aspetto più di financial reporting però c'erano molte cose a me sconosciute come per esempio molte correlazioni fra fattori macroeconomici e fattori di business oppure molte strategie di business anche applicate all'interno dell'azienda per ottenere certi risultati tutte queste cose qua le ho prese on the job quindi in quel caso quello che avevo preso in aula l'avevo un attimo messo da parte per sempre ricordandolo e mi ero focalizzato più che altro sull'ascolto un active listening nei confronti di tutto il mio team e di tutte le persone che mi stavano attorno per apprendere quante più cose possibili e poi per applicare quelle cose mischiandole anche quello che avevo preso in aula nell'avolo che dovevo fare quando invece alla fine mi sono trovato qua in Flowey a quel punto diciamo è stata la culmination per unire tutte queste esperienze qua e quindi da un lato mi sono interfacciato costantemente con persone per esempio che vanno a sviluppare il front end quindi in nostro caso essendo una mobile bank si parla dell'app e quindi tutte queste dinamiche tecnologiche che non verso le quali non ero per niente familiare a quelle poi davo il mio contributo con le conoscenze e l'esperienza che avevo maturato in ambito finance e soprattutto in ambito contabile quindi ho mischiato un po' tutte e due le cose per alla fine ottenere quello che secondo me è stato un risultato abbastanza ottimale ovvero sviluppare qualcosa di nuovo qualcosa di mio che si potesse applicare anche alla società però forse tu che sei stato completamente in Italia potresti avere avuto un affetto diverso non so se ti dico perché ricordo che hai fatto anche un'esperienza in consulting ci sei è decisamente una realtà diversa quella della consulenza rispetto a quella dell'azienda magari tocco anche questo tasto io in estrema sintesi credo che il passaggio dal mondo universitario accademico soprattutto quello italiano che è molto nozionistico spesso non sia esattamente banale cioè bisogna riuscire a tenere bene a mente quelli che sono un po' delle diciamo così quelli che possono essere i nostri fari guida che permettono poi una transizione efficace quello che è un po' il mio mantra credo sia oggettivamente fondamentale sia l'approccio mentale che si mette nell'attività nell'atteggiamento che si porta sul lavoro senza un atteggiamento propositivo e positivo diventa davvero difficile riuscire ad imparare tutte quelle che sono i meccanismi e le conoscenze come stavi dicendo anche tu giustamente che si imparano poi on the job giorno per giorno con la fatica spesso di rompersi la testa perché quello che è la grossa differenza è che dal mondo universitario è la differenza attraverso un manuale spesso che ti permette di trovare la risposta esatta a una domanda specifica sul mondo del lavoro spesso non si è sfidati in questo senso quando viene dato un task e poi sta un po' a te riuscire a a portare il lavoro a compimento nel modo nel modo migliore e in questo senso la curiosità è anche fondamentale riuscire a approfondire tutte le tematiche che passano sott'occhio essere la famosa spugna che permette di effettivamente di imparare di di portare a casa tutte quelle che sono le competenze necessarie e poi il rischio è un pochettino che io ho vissuto e che credo vivano molte persone che passano dall'università alla vita lavorativa sia un po' quello di non sentirsi compresi magari perché si esce da una realtà universitaria dove magari appunto la carriera universitaria brillante fa pensare ad un successo a un successivo insomma entrata in azienda pirotecnico spesso questo non può succedere è ovvio che c'è anche differenza da realtà a realtà sicuramente un'esperienza in flowy è totalmente diversa da un inserimento in lavazza che ancora un'altra cosa diversa da una realtà consulenziale come quella che ho vissuto per la prima parte di carriera successiva all'università però queste credo siano un po' le carte sulla parte di transizione università mondo del lavoro sì sì sicuramente sì l'atteggiamento fa tutto quello è molto importante sì guarda io scusate entro così e vi faccio subito una domanda la proiettiamo qua di Chiara visto che parlate di lavoro di studi quanto è importante secondo voi un'esperienza lavorativa durante gli studi per entrare in realtà lavorativa come la vostra è meglio lavorarsi un po' dopo come avendo già maturato un'esperienza questo penso che sia tipo la classica domanda che abbiamo fatto quindi è sicuramente intero sono anche molto curioso di sapere un po' la vostra sì secondo me vado io scusa fate dico la domanda è una bella domanda la risposta è sicuramente sì è sicuramente meglio avere un'esperienza alle spalle quando finisci il percorso di studio quando dici è meglio arrivarsi un po' dopo ma avendo già maturato un'esperienza io la ti fermo un attimo e ti dico ma perché non cerchi di fare tutte e due le cose restando nei tempi perché io ricordo anche qua in Italia molti colleghi eccetera che avevo finisci la sessione e cominci la vacanza in America invece mi sono confrontato ad una realtà molto più work oriented quindi quando hai tempo inizia subito a lavorare anche per esempio summer jobs e altre cose del genere molti internship di fatto sono nel periodo estivo proprio perché ti permettono di finire gli esami e di concentrarti su un lavoro o su qualcos'altro quindi non restare mai con le mani in mano ma cercare sempre di darti da fare così da ottimizzare i tempi e ottimizzare anche le esperienze che porti a casa che alla fine ovviamente se ti presenti con un curriculum in cui hai già delle esperienze pregresse è una bella figura hai qualcosa da dire anche ai recruiters nel momento in cui parli con loro e poi raccontarli delle tue esperienze è sempre apprezzato capire cosa hai fatto come l'hai fatto cosa hai visto e non presentarti e non presentarti invece semplicemente con una brillante carriera accademica però pur sempre esclusivamente accademica io mi ci ritrovo anche qua al 100% di sicuro alcune università facilitano questo aspetto perché spesso richiedono dei curriculum all'interno dei curriculum universitario inseriscono un'esperienza aziendale già di una certa rilevanza come per esempio la mia era stata di sei mesi però di sicuro di nuovo l'approccio la voglia di mettersi in gioco anche prima che l'università te lo chieda è sicuramente un più che ci si ritrova nel lungo termine la mia esperienza pregressa era stata in una realtà microscopica di organizzazione di eventi che però mi ha dato modo tra virgoletti di non essere mai più al primo giorno di lavoro perché cambia la realtà ma la verità è che il primo giorno di lavoro dopo che hai già avuto degli altri primi giorni non è la stessa cosa ti permette di presentarti con un bagaglio di conoscenze e anche banalmente di serenità in quelli che sono i tuoi mezzi che senz'altro è poi impagabile quando vai a giocarti magari la sfida della vita l'entrare in un'azienda più più blasonata anche banalmente e considerate che anche se qua in Italia so per certo che molte aziende non fanno internship estive o comunque sono ancora ferme che ne so agli stage durante l'anno così un po' quando vi pare piace andate all'estero all'estero è una cultura ormai assodata e consolidata quella delle summer internship soprattutto le grandi aziende mettono a disposizione veramente tanti tanti posti per interno durante il periodo estivo soprattutto se siete internazionali a molti fa anche piacere avervi nel periodo internazionale sono anche più predisposte talvolta a sponsorizzarvi per il lavoro se è per un'intero cipestiva quindi non esitate anche ad andare fuori o comunque a ricercarle veramente fuori dagli schemi soliti assolutamente assolutamente guarda diciamo fare un'esperienza durante gli studi è anche un modo per imparare a lavorare che sono quelle cose che magari uno non ci pensa però poi quanti ragazzi entrano in un'azienda e neanche sanno come si scrive una mail o si mette in copia una persona cose che magari possono sembrare banali però ecco aver già fatto una piccola esperienza lavorativa comunque durante gli studi permette di arrivare molto più preparato poi al mondo al mondo del lavoro e qui infatti mi aggancio un'altra cosa che avete già parlato prima però magari è un'altra domanda che hanno fatto in tre il tema delle competenze qui la domanda di un anonimo è stata il mondo finance sono più importanti le soft skill o le hard skill io qui aggiungo quali effettivamente ok soft skill e hard skill è interessante però cosa secondo voi o meglio cosa nella vostra esperienza avete notato che funziona meglio quindi magari questa volta facciamo partire Federico sì allora secondo me non è bianco o nero nel senso che non si può dire se siano più importanti le soft o le hard di sicuro il mondo finance è un mondo dove le hard skills sono fondamentali dove di nuovo excel è il pane quotidiano dove per chi ha le competenze anche di big data analytics a partire da tutti i programmi di di analisi dei dati c'è un evidente vantaggio nella gestione del dato e le hard skills sono sicuramente fondamentali però il rischio di di tralasciare le soft è elevato anche nella realtà finance una buona gestione delle relazioni buone capacità di sintesi di presentazione secondo me sono fondamentali sempre in un'ottica di crescita professionale fino ad arrivare a livelli più più elevati e manageriali quindi secondo me non è o l'una o l'altra diciamo che le hard skills sono condizioni necessarie no sono d'accordo con te le hard skills soprattutto excel è determinante poi vabbè si può mentire nel curriculum magari non ti testano durante il durante il di selezione poi arrivi i primi giorni di lavoro e ci fanno una figuraccia poi qua in Italia ho una licenza nuova per cui vai tranquillo però se sei già all'estero rischi che ti cacciano subito hard skills secondo me sono leggermente più importanti ma solo perché le soft skills è solitamente più semplice svilupparle più veloce anche svilupparle nel mondo del lavoro ovviamente però quando si parla i soft skills le presentation skills sono molto importanti quindi si ma già quello che ti accorgi durante un colloquio la persona è in grado di saper parlare di saper esporre i contenuti in un certo modo e di sapersi porre in un certo modo a quel punto hai le soft skills secondo me necessarie per ottenere il lavoro poi le altre magari che si aggiungono dopo le puoi imparare sul mondo del lavoro anche attraverso per esempio feedback perché per esempio molta gente non è abituata talvolta a lavorare in team oppure a lavorare cross-functionally ma queste cose le puoi imparare tranquillamente nel mondo del lavoro anche grazie ai feedback dei tuoi manager dei tuoi responsabili che ti possono indirizzare verso i miglioramenti più opportuni se posso aggiungerei un'ultima cosa che è sicuramente importante anche avere ben chiaro ciò che è rilevante più come soft skill nel senso che magari il rischio di andare a focalizzarsi su un qualche cosa di non rilevante è elevato ma quando si parla con interlocutori di alto livello invece bisogna riuscire a passare uno, due massimo tre messaggi perché dopo cinque minuti l'attenzione se n'è già andata questa è una soft skill che è assolutamente importante nel finance e non solo questo assolutamente quello si 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 mi trovate se ti interrompo però voglio stressare il team working cioè quando entri in un'azienda che hai mai lavorato prima e entri in un'azienda non vuole fare la prima donna oppure quello che sa tutto io o fa tutto da solo il team working è importante devi saperti veramente rely on your teammates devi essere in grado di appoggiarti a loro seguire i loro consigli chiedere aiuto quando ne hai bisogno senza problemi questo è molto molto e molta gente non riesce ancora a lavorare in team working assolutamente io invece volevo collegarmi a questo discorso delle hard soft skills per farvi questa domanda che riguarda i tool che è una domanda che mi è stata fatta un paio di volte ossia quali sono i tool che utilizzate più spesso li avete imparati aggiungo io avete imparato ad utilizzarli lavorando oppure anche all'università per esempio avete avuto modo di insomma iniziare a capire come funzionavano eccetera vabbè parto io al volo sicuramente Excel e tutto il packet office Excel Word PowerPoint quelle là sono il pane quotidiano e poi ho avuto la fortuna di interfacciarmi con data visualization quindi con due tool di data visualization il primo è Tableau che ho usato più che altri in progetti accademici in America e molto molto bello secondo me che puoi utilizzare dappertutto io per esempio l'ho utilizzato applicato all'ambito dell'audit non avrei mai pensato di utilizzare un software del genere in auditing perché spesso sai si pensa a data visualization questi tool spesso si pensa magari a marketing o possibilità di creare cose belle per il marketing invece anche in tante altre discipline si possono applicare e poi qua adesso dove lavoro invece stiamo utilizzando molto Power BI e quindi sempre come software di data visualization Power BI è molto molto utilizzato lo vedo anche in competitor e altre aziende nel settore per cui quelle là sono due tool che sicuramente buono avere hai imparato utilizzarli lavorando quindi Tableau in università qua Power BI invece qua lavorando Excel invece principalmente in università Excel poi in tutte le altre e lavorando poi ho consolidato ho imparato certe certe io credo io credo che la parola d'ordine sia spesso Excel 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 nel senso che e quando non basta ancora Excel no al di là delle battute gran parte della vita spesso è su Excel sull'analisi dei dati purtroppo io non era un tool che ho utilizzato troppo in università dove invece avevo imparato a usare R per l'analisi dei dati e poi insomma però sul lavoro Excel è diventato il pane quotidiano cominciando anche con qualcosa di visual basic quindi con qualche funzionalità legata alle macro che permette di automatizzare dei processi in modo efficiente mi ritrovo assolutamente su Tableau e Power BI probabilmente dovessi investire un penni adesso lo investerei su Power BI perché sta prendendo sempre più piede e risulta un tool più più maneggevole più semplice più immediato più flessibile rispetto a un Tableau che ogni tanto mostra un po' i suoi lati i suoi limiti esatto ultimo strumento è SAP che ogni tanto ho avuto la fortuna e la sfortuna di utilizzare però solo in azienda ovviamente guarda diciamo sulla nostra piattaforma diciamo circa se non sbaglio abbiamo fatto un survey poco tempo fa circa l'88% degli annunci di lavoro richiede una conoscenza base di Excel ok che va dalle risorse umane a chi fa ingegneria informatica a chi fa un po' a tutti quindi questo è sempre il primo consiglio che noi diamo sempre Excel è uno di quei programmi gratuiti perché mi sembra quasi tutte le università lo forniscono gratuitamente le università italiane abbiamo scritto un articolo se cercate su Google trovate il nostro contenuto si può scaricare gratuitamente e già iniziare a prenderci mano prima lo fate meglio è perché Excel è uno di quei tool che non si scappa c'è poco da non si scappa e se posso aggiungere io credo che con la giusta curiosità e il giusto atteggiamento in veramente poco tempo si riesca ad arrivare a un livello tale per cui diventa poi si entra facilmente nelle realtà aziendali poi chiaro arrivare a fare analisi complesse costruire modelli è un'altra storia ancora però per arrivare ad avere queste conoscenze base con i giusti tasti in poco tempo ci si arriva sì sì guardate assolutamente noi pure quando pure Tutored assume per noi stessi cerchiamo sempre qualcuno che sappia diciamo usare Excel perché davvero che sia il team di marketing o no o file o quant'altro comunque Excel è uno strumento essenziale cambiando completamente l'argomento e questa è un'altra un'altra classica domanda che fanno tutti che tutti i web non lo facciamo e devo dire ogni volta escono cose interessanti si parla ovviamente dei processi di selezione quindi in particolare direi colloquio questa l'ha fatta Lara quindi se potete darci potete raccontarci magari un po' i colloquio che avete fatto magari appunto anche con l'esperienza all'estero sicuramente interessante e qualche suggerimento che vi sentite di dare visto che comunque ne avete fatti vari e sicuramente ne avete fatti due che sono andati molto bene perché uno in flow e uno in palazza quindi quelli due sono andati molto bene però appunto se potete raccontare un po' le vostre esperienze magari questa volta non so chi ha iniziato prima mi sembra ma vai Federico ma Federico vai Federico vado io allora innanzitutto per la mia esperienza io ho visto due processi diversi sulla parte consulenziale e la parte corporate in consulenza si valuta tanto le conoscenze che si hanno le competenze per esempio tecniche di Excel oltre che al ragionamento numerico però credo che visto che l'obiettivo del meeting è più parlare della parte corporate in Lavazza c'è stato un processo di selezione davvero molto interessante che non mi aspettavo di affrontare perché partiti in un numero molto elevato i primi step sono stati tutti fatti online dal ragionamento logico numerico comprensione del testo test di lingua inglese che insomma è ovviamente all'ordine del giorno è necessario va tra le hard skills forse sì si è effettuata la prima schermatura quello che è stato interessante è arrivati a 64 candidati siamo stati invitati ad un giorno di assessment in gruppi da 8 quindi sono stati 8 turni da 8 persone e abbiamo fatto una vera war room nel senso che c'è stato questo assessment day fatto da una società di consulenza esterna che ci ha messo su una navicella spaziale e l'obiettivo era quello di salvarci con 8 ore consecutive di attività è stata una maratona però davvero molto interessante l'utilizzo della gamification su quelli che sono che è stato questo step arrivati a 15 poi abbiamo avuto i colloqui con il nostro C-Level con due dei nostri primi riporti dell'amministratore delegato insomma siamo arrivati fra gli ultimi quindi è stato sicuramente un processo molto molto interessante non mi aspettavo di vedere applicate tutta questa parte di come si possono dire di tecniche per la selezione i consigli quindi io credo che il principale consiglio che darei è quello di essere sereni ed essere se stessi se i candidati che sono troppo agitati che sono troppo sotto pressione da soli spesso vengono poi individuati come tali non sempre è un beneficio di assolutamente invece rappresentarsi per come si è e poi quello che paga nel lungo termine quindi darei questi due consigli io quello in flow è stato un po' diverso dal normale perché io non l'ho detto prima perché è stata un'esperienza molto veloce però io sono arrivato in flow come consulente però mi hanno accolto fin dall'inizio come uno di loro per cui diciamo ho dimenticato quella non voglio dire dimenticato perché la società è stata molto buona nei confronti però sono arrivato come consulente quindi loro hanno avuto modo di conoscermi in quei due o tre mesi di consulente che ho fatto per cui hanno visto il mio momento di lavoro hanno visto le mie conoscenze hanno insomma hanno capito chi è e di conseguenza nel momento in cui c'è stata l'opportunità di farmi l'offerta me l'hanno fatta senza senza pensarsi due volte o farmi altre altre domande altri colloqui perché non c'è più bisogno e invece cioè per i colloqui che ho fatto in particolare negli States per la coop che ho fatto molto behavioral perché quando facciamo dei colloqui ci sono sempre quelli behavioral e quelli più tecnici quelli behavioral sostanzialmente ti chiedono di parlare di te delle tue esperienze e quello che hai fatto quelli tecnici invece sono più correlati magari a testare qualche hard skill ad esempio ricordo uno che avevo fatto in line America uno dei miei ultimi colloqui e mi avevano messo davanti uno spreadsheet era un foglio stampato uno spreadsheet con le diverse forme di Excel in cui c'era una VLU Cup e altre cose del genere era molto cattivo quello no invece invece quello che avevo fatto stesso era più behavioral e da due round uno con l'HR l'altro invece con il responsabile che mi avrebbe preso e più o meno sono sempre stati tutti così quelli che ho fatto c'è sempre stato un screening iniziale che poteva essere fatto che poteva seguire anche ad un assessment tipo quelli che ha fatto Federico e poi i colloqui di presenza che possono essere di gruppo individuali ok molto molto interessante molto interessante noi diciamo su Tutored abbiamo proprio una parte della nostra home proprio dedicata a questo tipo di consigli perché abbiamo visto che i consigli per superare il colloquio con successo anzi per prepararsi per il colloquio sono comunque consigli estremamente validi estremamente interessanti alcuni sono fatti diciamo da noi altri dalle aziende con cui collaboriamo quindi diciamo sicuramente tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando poi li invito a dare un'occhiata io diciamo le ultime due domande visto che diciamo il tempo sta finendo però sono più specifiche la prima invece è specifica sull'Avazza quindi ovviamente su Federico che chiedono un po' di questo graduate program come funziona e un po' anche le differenze diciamo tra il graduate program come stage post laurea che è anche un altro tema estremamente interessante allora senz'altro il graduate program come dicevo all'inizio avrà una durata di tre anni è un graduate lungo spesso rispetto a quelli che si trovano sul mercato però l'ho anche scelto per questo motivo perché avendo delle rotazioni che saranno tre barra quattro a seconda di quelle che saranno le possibilità ora c'è anche il covid che è arrivato a scompigliare un po' le carte permette di ovviamente entrare più nel dettaglio di quelle che sono le attività che si vanno a ricoprire ora mi trovo all'interno del finance perché è stata la funzione che insomma era di mio interesse nella quale l'azienda rivedeva anche quelle che erano le mie competenze ed ho iniziato qua l'idea del graduate è comunque quella di andare a a costruire un percorso che è tailor made su quelle che sono le attitudini della persona c'è un focus veramente veramente elevato da parte sia degli HR così come dei manager che insomma dei nostri functional manager a cui riportiamo e anche dei coach ciascuno di noi ha un coach che è una figura è un manager di alto livello che ci segue appunto ha proprio un ruolo di mentore nei nostri confronti detto questo appunto insieme al coach e all'HR si va poi a definire quelli che sono i passaggi successivi di questi passaggi di funzione uno sarà all'estero per cui siamo in attesa di sapere se riusciremo a partire già verso marzo l'idea iniziale era a gennaio quindi dopo un anno dall'ingresso in azienda in una delle consociate di Lavazza per cui si parla di Australia si parla di Canada si parla di Stati Uniti si parla di Danimarca Germania Francia e Regno Unito direi dovrei averle dette tutte quindi insomma c'è davvero la possibilità di raggiungere delle mete anche interessanti lavorativamente dove si finirà tra virgolette la fine del percorso sta proprio un po' a ciascuno di noi dieci appunto siamo in dieci a aver iniziato questo percorso il tempo ce lo dirà esatto molto interessante ma secondo te diciamo questa è un'altra domanda la differenza secondo te principale tra un graduate program e uno stage post laurea qual è e se tu consiglieresti un graduate program oppure no allora io credo che anche vedendo un po' facendo un po' di benchmarking sugli altri ragazzi che sono entrati con me che probabilmente fosse capitato qua senza un'esperienza lavorativa precedente mi sarei trovato in difficoltà quindi credo che il mio essere strutturato mi permetta di performare al meglio in un in un graduate non vuol dire che per accedere a un graduate si debba avere un'esperienza pregressa ci sono dei colleghi che non avevano esperienze prima se si ha un background solito anche da un punto di vista tecnico non bisogna aver paura di sicuro un graduate è comunque un acceleratore anche nel lungo termine e quindi la posizione di atterraggio dovrebbe poi essere diciamo così più elevata rispetto a quella a cui magari si accede con uno stage curricolare o meno quindi un graduate secondo me è preferibile a parità di scelta però più sfidante ok sono d'accordo io farei diciamo l'ultima domanda la farei invece a Daniele perché parlo di flow quindi diciamo magari quello che ne pensi è un alto ruolo quindi giustamente non sai però quali sono le competenze che richiedono in realtà come flow anche se immagino che essendo un team grande ci sono varie ovviamente vari reparti vari team quindi è difficile rispondere però se vuoi magari fare una panoramica di flow che sicuramente interessa ai ragazzi che ci stanno ascoltando sì 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 allora sicuramente tanta voglia di fare è la competenza principale che qua in flow richiediamo a chiunque entri cioè tanta voglia di fare tanta voglia di apprendere è una mente elastica è aperta tutta una mente tanta motivazione perché ci teniamo veramente ad assicurarci che chiunque prendiamo sia appassionato all'azienda in particolare ai nostri valori alla nostra mission e però quando parliamo di competenze lavorative guarda ti dico l'excel è quello che sicuramente chiediamo a tutti almeno io chiedo a tutti e se che vi capito io come per fare il colore sono un po' più stranzetto no ci tengo molto al fatto dell'excel anche perché vi facilita tanto la vita in quello che facciamo dato che comunque i ritmi di una startup come Flowic ma come qualsiasi altra startup sono molto molto veloci quindi sostanzialmente ovviamente sì il 9-18 è l'orario standard però spesso si fa un'overtime e si richiede anche una certa concentrazione durante tutto il tempo multitasking che purtroppo spesso deconcentra però inevitabile per le multitudini di attività che seguiamo contemporaneamente e quindi sicuramente le principali competenze sono più soft skill che hard skill perché chiediamo team working perché appena entri dentro facciamo tutto per farti sentire a casa ma sicuramente lavorare in team e quindi essere in grado di relazionarti con altre persone nel tuo team è molto importante per facilitare comunicazioni anche il lavoro da tutti e poi di hard skill semplicemente capire sapere usare il capitolo Excel Microsoft Office è un'altra cosa importante che non ho detto però che chiedo per scontato come non è una competenza però sicuramente se volete lavorare in un'azienda come Flowic così se altre aziende anche quello che facciamo molta attenzione nel processo di selezione è sempre la conoscenza dell'azienda cioè è incredibile che spesso si possono trovare persone che non sono preparate sull'azienda a cui vanno incontro a cui si applicano cioè in termini di prodotti che vengono trattati oppure di business di riferimento di mercato e quant'altro invece quando senza neanche far domande esplicite molti candidati ci illustrano quello che è Flowic comunque è una cosa che apprezziamo tanto sono d'accordo io penso il primo consiglio che sento che tutti gli HR danno sempre è conoscete l'azienda prima di fare un colloquio leggetevi cosa fa i prodotti sul mercato chi è l'amministratore delegato la grandezza dell'azienda cose che a parte che uno lo dovrebbe fare prima proprio per capire se l'azienda gli piace però se proprio non lo fa perché magari fa tante candidature esatto almeno prima del colloquio ma ragazzi prima di chiudere io direi un flash un 30 secondi ciascuno su un consiglio che diciamo che vi sentite in Italia a questa community considerate che l'85% di chi sta partecipando ha un percorso in ambito finance quindi diciamo sono molto vorrebbero molto seguire un po' le vostre state quindi un consiglio flash partirei sempre da Daniele che ormai è carico ok io mi sento dire sempre la stessa cosa però never settle cioè non fermatevi mai non ambientatevi mai in qualcosa ma sempre cercate di apprendere qualcosa di nuovo non andare verso ciò che non conoscete in questo modo assicurate una crescita vostra personale ma anche professionale e soprattutto e poi l'altro consiglio che ci tengo a dare non avete paura di rischiare nel senso buttatevi se c'è un task un po' challenging che avete paura magari di non riuscire a fare chi se ne frega prendetelo in mano cercate di fare di dare il massimo di fare quello che potete e poi saranno altri a darvi consigli su come migliorare o a complimentarsi se avete fatto bene quindi non abbiate mai paura di veramente di buttarvi in qualcosa di nuovo in qualcosa che non conoscete ma confrontatevi sempre con voi stessi che è la cosa migliore per progredire meglio Federico? Io credo che quello che sia veramente fondamentale nel mondo del lavoro sia la motivazione che ci spinge avanti che ti spinge a prendere le scelte che insomma la vita ci pone davanti e in questo senso secondo me è fondamentale riuscire ad arrivare in una realtà che rappresenti per noi un ambiente giusto prima Daniela ha parlato giustamente di cultura ma oltre alla cultura ci sono anche tutte quelle che sono proprio i task e quello che si va a fare bisogna riuscire a trovare un contesto in cui effettivamente ci si riesce ad esprimere al 100% trovato quello non si dà al 100% ma ancora di più e l'ultimo punto che mi sento di dire è anche quello di essere sempre pronti al feedback a ricevere e anche al darlo quando si è nella situazione di poterlo dare perché forse stiamo affrontando un po' un cambio generazionale in questo senso e soprattutto in Italia si sta andando verso una cultura più del feedback curiamola perché è fondamentale riuscire a sia riceverlo che anche a darle in modo corretto ragazzi vi eravamo due consigli estremamente utili io ringrazio tutti adesso tutti verranno rindirizzati a un survey che è un brevissimo survey proprio i due minuti che ci serve per ottimizzare questi problemi per migliorare sempre io ringrazio tantissimo a tutti i partecipanti e gli auguro un grandissimo bocca al lupo per la loro carriera e ovviamente un grandissimo grazie per Daniele e Federico per averci dedicato questa ora di tempo grazie mille ragazzi e buonasera da tutti grazie a voi grazie ciao ciao ragazzi grazie ciao 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 ciao